E oggi a Casa Cervia, Gattatico, nel Reggiano, si è rinnovato il rito della passasciutta antifascista con la presentazione nel pomeriggio delle nuove interviste realizzate ai partigiani. Ancora invita 150 testimonianze che vanno ad aggiungersi alle 350 già presenti nel Memoriale della Resistenza Italiana promosso dall'AMPI 800. Le persone che hanno partecipato al tradizionale appuntamento che ricorda la pasta offerta in piazza dalla famiglia di antifascisti per festeggiare la caduta di Mussolini il 25 luglio del 1943. L'appuntamento si è svolto in contemporanea anche a Bologna e in altre città dell'Emilia Romagna così come nel resto d'Italia con circa un centinaio di passasciutte antifasciste.